E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds Allora ragazzi, nello scorso episodio siamo andati alla ricerca di cactus Che ho messo qua, nella cesta di fiori e coltivazione Poi vabbè ho raccolto un bordello di fiori e bla 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 Leggendo i commenti degli scorsi due video che se vi siete, se ve li siete persi Andateli a recuperare, visto che li ho caricati entrambi ieri E mi avete detto, nel primo soprattutto, sento rumori di zombie, eccolo qua Salve cio zombie, salve Tutto lo zombie in centro, mi potete droppare per questa armatura? Madonna quanto vado veloce, non ci sono ancora abituato E intanto è scoppiato un creeper, come potete vedere qua Quindi ho fottuto la cosa, sì vabbè bravo Peppo Allora, vediamo se ci sono cose E poi un'altra cosa che ho fatto Mi sono accorto che è, guardate qua Dove sei stronzo? Oh! Senti, scusami Devo fare vedere ai ragazzi delle cose Senta signore Guardate, ho catturato uno zombie villager Ragazzi, siccome i villager noi li abbiamo tantissimo Lontani da casa, Maria Allora, tu ti devi allontanare da Da, 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 da ovunque Mi puoi arrecare del danno Gli zombie villager, ragazzi Se li troviamo Li possiamo far tornare umani Quindi io direi, in primis Ehm Allora, in primis possiamo la lana Allora, aspetta, è notte Allora, aspetta, con calma, con calma Ora vi faccio vedere tutte cose In primis dobbiamo andare a dormire Perché così leviamo sia la pioggia Sia la notte Perché è abbastanza pericoloso fare queste cose di notte E poi, in secondis, appunto Vi devo dire la cosa che mi avete detto nei commenti Mi avete spammato tutti Il discorso che unendo una pecora blu Con una pecora gialla Effettivamente esce il verde E io ieri non ci ho pensato Però, ve lo dico già da adesso Non vi aspettate niente Cioè, nel senso Cioè, allora Secondo molti di voi Anche io ero convinto di sta cosa Unendo una pecora gialla E una pecora blu Usciva la pecora verde Sì L'unico problema è che Avendoci provato Ma aspettavo pure io questo La vita è una merda La vita è una merda E fin qui proprio siamo tutti convinti di ciò No? Seguimi su Instagram E' destino E' destino La cassa Ti prego la cassa Non mi ha droppato la cassa No vabbè raga però Madonna sti creeper di merda Me ne scoppia uno ogni pasta Ma che difficoltà è? Ma che difficoltà è? Difficoltà 5 Una sola A fanculo Cretine Tutte qua dentro Vai veloci Vai Tutte dentro Tutte dentro Dai veloci Guardate che mi tocca fare Guardate che mi tocca fare Ragazzo solo le staccionate Qua sono Levatevi dal pene Fastidio incredibile Ma tornami Ma tornami Vi dovete levare Ok sono riuscito a portare Tutte le pecore Dove cazzo dovevano stare Ok Cioè dove devono stare No dove dovevano stare Allora qua Vabbè qua si è spragasciato tutto Vabbè qua ci va Quello marrone E poi tutto quello marrone Qua va bene Ok E ho torciato un po' il tutto Ecco Allora mettiamo la cesta qua E rifacciamo la stessa cosa In questo modo qua Ok Quello che vi devo fare vedere Era questo Ovvero accoppiando Pecora blu e gialla Accoppiate per favore Allora vediamo se ci riesco Voglio far accoppiare Allora Una pecora gialla Ok con questa blu Guarda Da dove cazzo vieni tu Non te ne andare Ok questa blu qua Accoppiatevi Accoppiatevi Ok visto E' nata questa pecoretta Questa pecorella Questa pecorina Quella pecorina Come vedete è gialla Comunque Ci ho provato ragazzi E' affiduso Ci ho provato Quando erano meno Adesso effettivamente Così potreste benissimo dire Vuoi entrare? Entra Entra dai su Dai Ti metto il blocco qua Dai Ah no sei partito Vieni qua Vieni qua Vieni qua Madonna un altro creeper Che stai facendo? Vieni qua Conto fino a tre Se non ti Giri Ti ammazzo Uno Ok perfetto Sei abbastanza volubile Dai veloce Vieni qua Dai Salta là sopra Entra dentro Entra dentro Ah Bafangola Accoppiatevi tutti Copula Intanto Aspetta Entri al creeper Ok vai Copulate E bafangola E bafangola a tutti Ok l'ultimo pezzo di grano Perfetto Ammazziamo quel creeper Che ci fa questa sul ponte Per bafangola Bafangola Basta Avrò pecore in giro Per tutto il mondo Colorate Sti cazzi Allora Andiamo a dormire Sperando che Non Non succedano Altre cose brutte Ok Ah Meno male E adesso Dobbiamo craftare Tutte le varie cose Che servono Per far diventare Quelle Quello zombie Villager Farlo diventare Un villager normale Visto che Si può fare Allora Nel drop Dei mob Esatto Abbiamo delle Ampole di vetro Che abbiamo droppato Dalle streghe E non ci hanno droppato Va bene Ok Allora Prendiamo Un occhio di ragno Poi 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 Andiamo su fiori e coltivazione Prendiamo un fungo E dello zucchero Ok Unendo questi tre elementi Nella crafting table Messi alla cazzo di cane Facciamo l'occhio di ragno Fermentato Ma prima Dobbiamo andare Su robe del nether Prendiamo una verga Poi Non ho la cobblestone Scherzavo Pichiamo tre cobblestone E facciamo Tac E poi Tac L'alambicco Visto che è una cosa che ci mancava L'abbiamo craftato Per il momento Lo mettiamo qua Ma quasi quasi Ho del vetro Sì Che c'ho del vetro Allora Con tre mi Sembra che me ne escono tre Può essere Esatto 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 E mettiamo Qua Danneggiamento Danneggiamento Quindi Non mi ricordo come si chiamano Comunque quelle che se le lanci Danneggiamo Teoricamente Vi ripeto Se non mi sbaglio Poi se sbaglio Ecco Pozione di debolezza Perfetto Successivamente mettiamo la polvere da sparo Che la polvere da sparo Non fa altro che Rendere le pozioni Lanciabili Ok Quando applicata 0,5 danni per colpo Ok Quindi mezzo cuore di danno Dovrebbe essere Tecnicamente No Signor Lambicco Si sbrighi per favore Dai su Si si spicci Perfetto Abbiamo fatto la pozione di debolezza Lanciabile Ho impresa compiuta Vabbè Le alze lasciamo là Tanto sti cazzi E poi Qua dentro Prendiamo Una mela E dovremmo avere L'oro Eccolo qua E prendiamo 8 D'oro Perché 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 dobbiamo Craftare La mela D'oro Allora Non so Quando questa cosa Effettivamente Funzioni Però Effettivamente Così mi hanno detto Che bisogna fare Quindi Visto che noi abbiamo I villager Lontani da casa Salve signore Salve Vi ripeto Siccome noi li abbiamo Appunto Lontani da casa I villager Portarli col kart È un problema Invece Se aspettiamo Che spawnano Vieni qua Cretino Ti devo lanciare la pozione Allora Qui devo farlo bene Mannaggia la puttana Mannaggia la puttana Aspettate un attimo Questa terra Mi dà fastidio Porca troia C'è rotto il cazzo Mannaggia Questa terra di merda Ok Senza sbagliare Facciamo Tac L'ho preso Ok L'ho preso Adesso Con la mela d'ora Con la mela d'ora Lo clicchiamo Sta esplodendo Ho attivato Una bomba Oddio Ora esplode C'è gli spasmi No scusami No È diventato un creeper Salve Come funziona Sta roba Aiuto Ragazzi Non so Se ho appena Attivato Non lo so Una bomba nucleare Io spero di no Però mi hanno detto Che si faceva così Però non sembra Stia andando bene Non lo so Si sta trasformando Ci vuole del tempo Forse prima Mi servirebbe Comunque il blocco D'argilla marrone Che ha in mano Sì sì Me l'ha rubato Da qua Vabbè Comunque In ogni caso Vedete che Tenendo il blocco D'argilla in mano Avete notato Che appunto Spawnato qua Quando il creeper È scoppiato Ce n'erano due Però il creeper È scoppiando Uno l'ha ucciso Mannaggia a lui Ah ho spento Tutto il fuoco Là dentro Mi sono dimenticato Di dirvelo Per evitare Che si ammazzasse Da solo Ma infatti Trasformi No sono curiosissimo Di vederti trasformato Facciamo che Forse lo devo lasciare qua Eh lo so Che ti senti triste Sole mi vuoi abbracciare Però non 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 mi puoi dire così Poveretto Sembra che stia soffrendo Abbono zombie Sti cazzi Tanto tu mi picchi Allora Direi di metterci al lavoro Per fare una cosetta Cosa dobbiamo fare Allora Voglio cominciare A fare Una piccola Farm Di Perfetto Ok sono contento Abbiate capito Allora Prendiamo un pochettino Di cactus Magari Dieci vanno bene Il resto Lo posiamo qua Prendiamo La sabbia Uno stack Va più che bene E per il momento Prendiamo Giusto Per il momento Ripeto La cobblestone Giusto per fare Un attimino La grandezza E la forma Poi comunque Credo che La abbelliremo Perché per il momento Non so come cazzo fare Nel frattempo Quello è ancora Uno zombie Vabbè 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 va bene E la farm Di Come Stragazzo si chiama Di cose La faremo Momentaneamente Qui Quindi facendo così Teoricamente potremmo anche usare Gli stessi materiali Effettivamente Vabbè Si Ma ce la faccio A piacere un blocco Che dico sia uno Cacciarola La potrei fare anche Dello stesso materiale Sinceramente parlando Non è che Che muore nessuno Mi porto avanti Semplicemente usando quello Vabbè Per il momento Guardate che voglio fare Allora Dobbiamo fare il tutto Alto Uno Quindi Se io prendo la sabbia No La sabbia la devo mettere In questo modo Qua Ok Va bene Per il momento Va più che bene così E poi mettiamo Dei blocchi Qua Esattamente qua Quindi facciamo Stessa cosa qua Vabbè Ovviamente Se io non sbaglio Diecimila blocchi Non sono io Ok Perfetto Teoricamente così Dovrebbe funzionare Allora Perché vi dico questo Perché quando crescerà Il cactus Avendo il blocco accanto Teoricamente si romperà E cadrà Vi ripeto Cioè Questa è tutta teoria Ragazzi Tutta teoria Quindi Allora Direi di piazzare Questi blocchi qua E quando cresceranno Diciamo Cadranno a terra Ovviamente Il tutto Dovrebbe essere Pieno di E tua sorella Son cascato Tutto pieno Di imbuti Andiamo a guardare Il nostro zombie Nel frattempo Se si è Se è diventato Bello Ok non lo vedo Non lo vedo Si è il villager Si è il zombie Cos'è diventato Lei? Si è trasformato? Oh eccolo Eccolo lì Si Che bello Ragazzi No 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 Allora Dobbiamo fare così Dobbiamo cercare No vabbè Per il momento No vai Come se avessi accettato Perfetto Allora per il momento Io direi di chiuderlo Per evitare che venga ucciso O diventa zombie Ragazzi Abbiamo appena appurato Che non scoppia Non è Non è una bomba nucleare Ma semplicemente Ritorna normale Bellissima questa cosa Allora Andiamo su cose di valore E dobbiamo craftarci Un bordello E dico Un bordello Di Un bordello Di 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 Vabbè si cazzi Dai me li faccio tutti Tanto alla fine Non è un problema Allora mi serve Legna scura 23 tramogge Va bene Dai per il momento 23 tramogge Vanno più che bene Allora andiamo nella nostra Bellissima farm Di cactus Comunque credo Che ancora non sia cresciuto niente Lì c'è un creeper Va bene Può morire Signor creeper Che a lei non mi piace Grazie mille Gentilissimo Ne piazziamo così Ovvero che tutte le tramogge Diciamo portino A questa tramoggia Principale Ok quindi facciamo così 16 non basteranno mai E teoricamente Allora Questa è la tramoggia centrale Che culo C'ho la chest Se io piazzo la chest Qua no Ok qua Devo stare attento Perché Teoricamente la dovrei Droppare io Ok E la colleghiamo qua Ok Certo mi piacerebbe Che adesso un cactus Cresca E i cactus Per crescere Comunque non hanno bisogno Dell'acqua Sono nel deserto Nel deserto mica C'hanno l'acqua accanto Quindi teoricamente Dovrebbero crescere Vabbè io direi di fare la prova Allora prendiamo un cactus Ok perfetto Funziona Oh salve signor zombie Speravo sinceramente Farsi uno zombie villager Ok zombie normali Mannaggia a voi Mi serve lo zombie villager Che Che comincia a farmi pure le fa Salve signore Salve signore Salve signore Salve Venga 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 qua venga qua Venga qua venga 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 qua venga qua signore lo schiare Non rompe il cazzo Ragazzi abbiamo più o meno iniziato la farm di cose Abbiamo trovato un altro villager Avete visto che è fattibile Sono contento di averlo trovato in video Così tolgo ogni dubbio Però signor zombie Dico si svegli per favore L'abbiamo pure trovato con l'armatura d'oro Allora questo qua ce lo portiamo in casa Sinceramente parlando Allora cortesemente E bafanculo Ok perfetto ora si Qui abbiamo le pozioni già belle che pronte Direi di prendere una mela Aspetta ok Allora prendiamo una mela Ok e poi ci serve robe di valore Uotto che culo Facciamo anche qua una mela d'oro Perfetto E E adesso facciamo quello che dobbiamo fare Allora non se la prenda male Ok l'abbiamo indebolito Poi con la mela d'oro Tasto destro E anche lui è diventato Una bomba Aorologeria Speriamo non mi esploda Perché non sarebbe una bella cosa In ogni caso solo perché fa più fico eh Cioè solo per quello Facciamo attacchi così Così lo possiamo ammirare in tutta la sua bellezza Quindi ragazzi Quindi ragazzi Allora che cosa abbiamo fatto oggi Abbiamo fatto delle cose splendide Soprattutto abbiamo due villager Seguimi su Instagram Vi saputo dovrei fare quelle farm Dove villager si accoppiano tra di loro Copulano e mi fanno altri villager Io credo che con due già potrei teoricamente iniziare Detto questo ragazzi Se il video di oggi vi è piaciuto Io come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione In su qui sotto al video E nulla ragazzi Io credo che nel prossimo episodio Lo troverete lì dentro Ma sotto forma di villager Andiamo a trovare l'altro Prima di chiudere l'episodio Allora lo abbiamo messo là dentro Che era ritornato Ad essere un Era tornato tranquillamente Ad essere Eccolo là Guardatelo che bello Guardate guardate Vi faccio vedere che è innocuo Avevi visto che è innocuo? Guarda che bello Vediamo che cazzo ci vende Uh per 20 ragnatele Ci da uno smeraldo Uh bello Oh va bene Ok 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 Oh ci da pure Maurizio Merlozzo cotto Perfetto 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 Quindi ragazzi Se il video di oggi vi è piaciuto Se il video vi è piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione In su qui sotto al video Abbiamo una mini farm di cactus Che non so se funziona Vedremo nei prossimi episodi Se Abbiamo la roba là dentro La teoricante Così non lo può picchiare nessuno Abbiamo appurato Che le pecore verdi Non si possono fare Se non solo e soltanto Con il Con il colorante verde Però ancora Non sta crescendo niente Vi voglio bene Ad un prossimo video E Ciao 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 What What Non c'è la porta Come hai fatto a uscire Ok Vabbè Oh niente Che bello Che bello Bellissimo ragazzi Abbiamo ottenuto Un finale Splendido Davvero Abbiamo trovato Due villager Come vedete E mentre io lo porto Dove doveva stare Ok Penso che anche l'altro Lo porterò qua Sinceramente parlando No 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 Scusami un attimo Devi entrare Madonna mia Qua devi stare Non devi rompere Lo sproto Ok Ragazzi Sono contentissimo Ciao ciao Seguimi su Instagram Seguimi su Instagram No he